È stata inaugurata questa mattina al Tribunale di Pescara la Camera di Conciliazione Forense. L'organismo si occupa di fornire servizi di conciliazione, mediazione e risoluzione stragiudiziale delle controversie anche online. Tra le funzioni anche l'organizzazione di corsi di formazione, attività di studio e promozione culturale. Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, Lucio De Benedictis, ha spiegato che il tentativo di conciliazione è obbligatorio per una serie di materie e che tra un anno entrerà in vigore anche per la responsabilità da circolazione stradale e in materia condominiale. De Benedictis ha sottolineato che la posizione dell'Avvocatura rispetto alla conciliazione non è di assoluto contrasto, tuttavia... Ci sono alcuni aspetti negativi di questo provvedimento legislativo che sono stati evidenziati dall'Avvocatura. Uno è questa eccessiva privatizzazione della giustizia. Le Camere di conciliazione non sono necessariamente istituite da enti pubblici ma anche da società private e in alcune zone della nazione ci possono essere anche infiltrazioni nei capitali di queste società e quindi ci può essere una mancanza di indipendenza di chi svolge invece un servizio che è importante ai fini poi della definizione delle controversie. Ulteriore elemento negativo è rappresentato dalla mancata previsione dell'obbligatorietà dell'assistenza tecnica in questa fase di conciliazione, dal fatto che non ci sono interventi pubblici a favore di chi gestisce un istituto, una Camera di conciliazione e quelle istituite e riconosciute dal Ministero, istituite dagli Avvocati, sono state istituite con capitali dell'Avvocatura. Grazie.